Corpi senza vita nella favela di Villa Cruzeiro a Rio de Janeiro in Brasile. Bilancio tremendo almeno 20 morti di una violenta operazione della polizia del Dipartimento di Rio de Janeiro che all'alba di martedì ha fatto irruzione nella favela scatenando un conflitto a fuoco. Si tratta dell'ennesimo episodio di uno scontro armato tra le forze dell'ordine e le bande criminali che imperversano nello stato di Rio. Tra i residenti di Villa Cruzeiro c'è rabbia e disperazione. E' un altro massacro e il secondo nel complesso di favela spegna da quando c'è il governatore Claudio Castro. Ne abbiamo avuto uno anche a Jacaregino, a Salgueiro, a San Gonzalo e in altre favelas. E' una situazione davvero scioccante. La violenza della polizia di Rio de Janeiro finisce di nuovo sotto i riflettori un anno dopo i raid nella favela di Jacaregino del 6 maggio 2021 che provocò 28 morti scatenando polemiche e denunce contro gli agenti di polizia per abusi ed esecuzioni sommarie.